Il vicepresidente di Forza Italia Tagliani in Calabria a sostegno della candidatura di Iole Santelli alle prossime elezioni regionali ha indicato che secondo lui Forza Italia sarà il primo partito qui in Calabria. Assolutamente sì perché non si può pensare di avere una politica per la crescita e per lo sviluppo senza avere un rapporto forte con l'Europa. Penso soprattutto alla politica agricola comune, penso all'innovazione e alla ricerca e anche alla possibilità di realizzare infrastrutture, ivi comprese quelle digitali. Noi saremo un punto di riferimento per Iole Santelli quando sarà presidente della regione e Forza Italia che è parte integrante del Partito Popolare Europeo avrà un'influenza non secondaria negli aiuti e nel sostegno che potrà dare alla regione Calabria da Bruxelles. Ma non è che basta soltanto Bruxelles, non basta soltanto l'Europa per far crescere la Calabria. Credo che si debba fare un salto di qualità. Serve una vera rivoluzione culturale, un cambio di mentalità. I calabresi come tutta la gente del sud non deve piangersi addosso, deve riscoprire il proprio orgoglio. Lo Stato deve aiutare i calabresi a riscoprire il proprio orgoglio, facendo cosa? Favorendo la crescita, aiutando piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, agricoltura. Favorendo la competitività, aiutando un settore importante, qual è quello del turismo, la realizzazione di infrastrutture. Penso all'alta velocità, ma penso a intere parti della regione che sono difficilmente raggiungibili. Se noi vogliamo far crescere le presenze turistiche dobbiamo mettere in connessione l'intera regione. Non serve il reddito di cittadinanza. La gente del sud è gente che ha orgoglio. L'orgoglio e la dignità si ritrovano soltanto nel lavoro. Noi dobbiamo permettere ai giovani calabresi e ai giovani meridionali di avere un lavoro. Quindi i soldi, l'assistenzialismo, gli aiuti di Stato vanno dati agli anziani, ai portatori di handicap, alle donne che non hanno pensione di versibilità. Questi sono soldi spesi bene. Il reddito di cittadinanza non crea lavoro, invece noi dobbiamo permettere ai giovani calabresi di continuare a sognare. Se c'è una percentuale così alta di disoccupazione giovanile, se c'è una percentuale così alta addirittura di giovani che neanche circono più il lavoro, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Lo Stato deve fare la sua parte, la Regione deve fare la sua parte, ridurre la burocrazia, ridurre la pressione fiscale per le imprese. Questa è la strada da seguire per impedire che giovani di talento abbandonino la Calabria. Oggi ci sono decine e decine di migliaia di giovani calabresi che hanno lasciato la loro terra dopo essersi laureati, dopo aver avuto un diploma superiore, questo significa perdere le migliori risorse, le migliori teste e perdere il futuro. Questo è inaccettabile. Quindi bisogna fare in modo che gli investimenti fatti sul capitale umano vengano poi investiti direttamente sul territorio regionale. Pensiamo all'alta velocità, non possiamo avere soltanto l'alta velocità formale, una freccia rossa ogni tanto e poi che non va la velocità dove va da Salerno verso nord. Bisogna avere un sistema di infrastrutture che permetta alla Calabria di essere veramente una regione competitiva. Ricordiamoci che la Calabria non può essere presentata come tutto il meridione, il luogo dove c'è la malavita e niente più, è il contrario. Questa, come le altre regioni del sud, è una terra che offre grandi opportunità e grandi risorse. Qui affondano le radici della nostra cultura, ricordiamo che la nostra civiltà nasce in Calabria, la magna Grecia. Non è che possiamo dimenticare cosa rappresentate, cosa rappresenta la Calabria e cosa rappresenta l'intero meridione del nostro paese. Ecco perché il voto calabrese è un voto nazionale, perché si gioca a partire dal voto calabrese il destino dell'intero meridione del nostro paese. Per questo bisogna avviare una... Il destino si gioca anche il destino del governo nazionale proprio. Ma certamente sì, perché per quelli che sono gli orientamenti, e vediamo che c'è un forte orientamento a favore di Iole Santelli, con una maggioranza di 10-15 punti sopra gli altri candidati, dimostra che l'opinione pubblica italiana non è in sintonia con la maggioranza che governa il paese. Dove si è votato in tutte le regioni, dal nord al centro al sud, e in tutti i comuni dove si è votato, dal nord al centro al sud, gli italiani hanno detto che vogliono un governo di centrodestra. Cambiare il PD, creare un nuovo partito, come va? Mi pare che hanno sempre cambiato noi, ma sono rimasti sempre gli stessi, no? Era il PC, il PDS, il PD, cambiano, ma poi non cambia la sostanza, rimangono un partito di sinistra, assistenzialista. Io credo che lo cambieranno gli elettori, il Partito Democratico. Come vanno le cose, non credo che avrà un risultato lusinghiero né in Calabria né in Emilia Romagna. E invece il futuro di Forza Italia, anche sulla base di queste elezioni regionali che vi vede in prima linea, soprattutto in Calabria? La Calabria è una terra dove noi siamo molto forti, siamo il primo partito e la presenza di tre liste che ruotano attorno al Forza Italia, perché non c'è soltanto quella con il nostro simbolo, ma c'è anche la lista della Presidente Santelli, c'è la lista che fa capo ai Fratelli Gentili, CDL, dimostrano che c'è un'area che rafforza il centrodestra. Non c'è un centrodestra di governo se non c'è questa grande area maggioritaria che permette alla coalizione di non essere solo una coalizione di destra. Questo ci dà credibilità a livello nazionale e a livello internazionale. Io sono convinto che quando faremo i conti il 26 notte o il 27 mattina Forza Italia sarà il primo partito di questa regione e insieme alle altre liste potrà addirittura arrivare... Questo lo dice anche la Lega che sarà il primo partito della regione. Ognuno ha le sue opinioni, poi vedremo quali saranno i risultati, vedremo quando si sommeranno i voti della lista di Forza Italia, della lista del Presidente Santelli e della lista CDL e quali saranno i risultati, quale sarà l'area maggioritaria nel centrodestra. A noi interessa certamente competere all'interno del centrodestra perché siamo diversi sia dalla Lega sia da Fratelli d'Italia, rappresentiamo una parte fondamentale e in Calabria maggioritaria, come in tutto il sud è maggioritaria, del centrodestra. Questo non significa che non siamo a favore di una coalizione, noi crediamo in una coalizione ma non siamo un partito unico, siamo diversificati e l'anima che ruota attorno all'Italia, che è l'anima cattolica, liberale, riformista, sia maggioritaria. E questo è un bene anche per le altre forze di centrodestra perché più siamo forti noi, più siamo credibili a livello internazionale, più c'è possibilità di andare ad elezioni anticipate e di avere un governo credibile a livello internazionale. Soprattutto visto gli ultimi eventi. Purtroppo a livello internazionale l'Italia sia con il governo Conte 1 che con il governo Conte 2 ha fatto delle brutte figure, non c'è una politica estera, non conta, siamo emarginati da qualsiasi scelta, non contiamo in Medio Oriente, non contiamo in Nord Africa, non abbiamo un ruolo da giocare importante a Bruxelles e purtroppo insieme all'Italia anche l'Europa conta molto poco. Noi abbiamo interesse invece a contare nel Mediterraneo, dobbiamo impedire che nasca un nuovo impero ottomano, questo non significa non avere un dialogo con la Turchia, ma se noi siamo assenti ovviamente gli altri occupano gli spazi. Non possiamo politicamente accettare che la situazione in Libia sia gestita da Russia e Turchia, quando dovrebbe essere una questione che dovrebbe vedere l'Europa e in modo particolare l'Italia protagonista. Invece l'Italia è diventata marginale. C'è un'altra grande questione sulla quale noi ci stiamo battendo, che è quella dei dazi americani. Il giorno 13 si deciderà, io mi auguro che vengano colpiti il minor numero possibile di prodotti italiani, perché una scelta americana di questo tipo danneggerebbe molto la produzione del Made in Italy, favorirebbe invece l'Italian Sounding, tutti i prodotti contraffatti che vengono messi sul mercato americano, danneggerebbe anche le imprese commerciali italiane che lavorano negli Stati Uniti per diffondere i nostri prodotti, serve un'azione forte dell'Europa. Noi abbiamo sollecitato la Commissione europea, abbiamo sollecitato il governo affinché ci sia una posizione forte a tutela dei nostri prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agroalimentari calabresi. Questo assessore è già stabilito che sarà della Lega oppure è tutto da decidere? Ma credo che sia una spiegazione legittima della Lega, al momento una spiegazione perché io non ho parlato né con Salvini, né con la Meloni, né con il mio partito né di Giunta né di Deleghe, è legittimo che ciascuno abbia le sue spiegazioni. Ecco, a proposito di agenda onorevole, i criteri per la composizione della sua futura giunta, politica, tecnica, tecnico-politica, come sarà? Probabile tecnico-politica, sicuramente per la maggior parte è politica, io credo nella politica e quindi penso che i politici bravi sono quelli che si circondano di tecnici bravi. Calabresi oppure? Ce ne abbiamo tanti in Calabria, abbiamo tante belle teste in Calabria. Qualcuno ha sollevato il problema di precedenti situazioni tipo Umbria, dove c'è stata una sorta di invasione, tra virgolette, di assessori provenienti d'Alberto. Zingaretti ha detto che... Nella fattispecie della Lega. Ma io credo che noi abbiamo tante teste di Calabresi validissime, capaci di mettersi al lavoro per questa regione e con volontà di farlo. Quindi risponderemo alla Lega in questo caso, prima i Calabresi. E questo incontro di oggi, che nasce appunto come un incontro dell'Onorevole Tallin, alla fine diventa un incontro di tutto il centrodestra, un'unione anche all'interno di Forza Italia ritrovata? Un'unione di Forza Italia. Oggi abbiamo anche la piacere di avere il Presidente Tajani in visita. Siamo stati a Cosenza, abbiamo presentato le liste che diciamo fanno riferimento a Forza Italia. Oggi presenteremo anche la lista di Forza Italia Catanzaro, poi andremo a Reggio a fare la stessa cosa. Quindi diciamo, facciamo un giro della Calabria. Anche con gli occhiuto sembra che l'Onorevole sia tornato in sereno. Avete visto che vi preoccupate troppo per i giornalisti? Abbiamo visto che ci state già un bel abbraccio. Ci sono anni vissuti in comune, c'è politica, quindi c'è poi c'è un dato che è necessario per chi fa politica. L'Io è un conto e prevale il noi, cioè prevale poi quello che è l'interesse di tutti. Si aspetta molto questa lista del Collegio Centro, diciamo, oltre a Mimmo Tallini, ci sono molti amministratori. Sì, mi aspetto per i risultati perché poi in questo caso me lo aspetto, se mi consentite, anche da coordinatore regionale di Forza Italia. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato tanto alla costruzione di questo partito, quindi spero che ci saranno giuste soddisfazioni.